Perché te che vivrai due Consorella? Dove è la consorella? Visto come è arrivata la consorella, si chiama suor Stonella Suor Stonella come mai? Perché è stata bocciata anche lei all'aspirantato E perché è stata bocciata suor Giorgetta? Perché ero troppo stonata In alleluia, quando ha preso? Ho preso tre Ci fa un alleluia? Senta, senta, qua tre Alleluia, alleluia, alleluia E lei è stata bocciata, pensa alle altre che cosa sono, come cantano Certamente, certamente Allora, vogliamo concludere facendo un bel canto de Gregoriano? Un canto de Gregoriano? De Gregoriano, assolutamente Cominci, prego Posso cominciare? Cominci a sentire Alice guarda i gatti, i gatti guardano nel sole Mentre il mondo sta girando senza fretta Irene al quarto piano è lì tranquilla E si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta Sono passati i bombieri Era un segno Hanno sentito la sigaretta? Era un segno del signore Tecche, tecche, viva Raidu Woo Grazie a tutti.